Una partita veramente complessa, quella con Use, che però anche grazie a due canesti decisivi, come quello di Magini e di Passoni, ma anche durante la partita Malotta è stato decisivo insieme a Terenzi, Galmarini, insieme a una partita tutto tondo di tutta la squadra. Sì, sono d'accordo, una partita di tutta la squadra, veramente una vittoria molto sudata, come sono state le nostre dieci vittorie in questo campionato. Noi abbiamo fatto una partita dove siamo andati sotto e a un certo punto Empoli nel terzo quarto aveva l'inerzia a favore, con Mariotti che ci stava facendo, creando veramente grossi problemi. Poi devo dire, i canesti di Magini, però tutta la squadra in difesa che è riuscita a ripartire con grande energia, direi bene. Prossima settimana, ultima di campionato, Domodossola. È una partita da dentro fuori, sia per noi che per loro, quindi è uno spareggio. Siamo arrivati a questo punto, direi che vogliamo cercare di terminare questa avventura in Serie B nel modo migliore possibile. Considerando tutte le problematiche che abbiamo avuto e la nostra partenza deficitaria, io credo che non sia da tutti rientrare da 0-10 e finire con la possibilità di salvarsi. I ragazzi hanno messo in campo grande energia, così faranno a Domodossola. Saremo accompagnati da questi splendidi tifosi che abbiamo e cercheremo di fare tutto il possibile, metteremo tutto quello che abbiamo in campo per poter vincere a Domodossola e provare a salvarsi ai play-out.